Ciao ragazzi, sono Brian, Brian l'americana e sono qui perché una ragazza molto simpatica mi ha chiesto di spiegare la differenza tra buy e from in inglese e quindi penso di farlo in questo video perché io lo so come funziona la parola buy e anche la parola from in inglese e mi va di condividere questa informazione con voi quindi prendiamo la parola da e traduciamola in inglese quindi se dico vado dal dottore in inglese non dobbiamo mettere da, cioè by forse quando andiamo da qualche parte, cioè da una persona invece diciamo to, tipo vado dal dottore, I'm going to the doctor non è I'm going by the doctor oppure vado a, non lo so, cioè se andiamo ad una casa di un amico possiamo dire, in italiano diciamo vado da Marco, cioè vado da Marco però in inglese diciamo I'm going to Marcos e la S è quello possessitiva quindi, cioè se chiedi dove sei a me, dove sono potrei dire I'm at Marcos e già sai che intendo sono a casa sua perché non dobbiamo dire I'm at Marcos house dobbiamo solo dire I'm at Marcos perché c'è, non c'è bisogno di aggiungere house perché è implicito quindi quello è facile e tornando al buy e from se c'è un prodotto che è fatto e qualcuno l'ha creato cioè ha fatto lavoro per ottenere questo prodotto sarebbe un buy cioè un album di un gruppo è un album by One Direction cioè direi this is the album by One Direction però invece se diamo qualcosa è qualcosa da noi e from noi quindi cioè from è solo locativa nel senso è cominciato qui e è finito qua from here to here e invece by vuol dire che l'hai creato tipo è fatto by me è fatto by me it's made by me quindi facciamo alcuni esempi poi mi sa che finiamo quindi a Natale quando regaliamo regali scriviamo to cioè poi aggiungiamo la persona che lo ricevi che lo riceve e from la persona che lo dà quindi to mom from Brian e le do qualcosa quindi non è by in quel caso però by sarebbe quando cioè se creo qualcosa e poi lo pubblico è by me tipo questo video è fatto by me I made this video who did the video? oh Brian it's by Brian così e quindi altrimenti da in italiano voi dite tipo siamo qua da un'ora in questo caso è for cioè we've been here for an hour oppure siamo sposati da quindici anni in inglese sarebbe we've been married for fifteen years quindi da è una preposizione strana però in inglese forse è più facile quindi quindi sì basta così e spero di aver spiegato bene e guarda la mia mappa voi siete lì e mi manca mi manca l'Italia però non lo so ci sentiremo alla prossima ragazzi ciao